This could be us, so back to what I would say This could be us Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ci troviamo qui in questo nuovo video Che sarebbe un vlog in bici Da come avete visto da qua E forse anche dalla copertina E per gustare la nuova GoPro Hero 10 Black Edition E che metterò sul casco Quindi sarà più o meno alta così come state vedendo adesso Quindi a dopo Faccio l'aria che ci fa in bici E per testare questa GoPro che non mi sa neanche come va Comunque speriamo che vada bene Perché ci ho Vabbè, il visuale credo sia abbastanza carina Perché è un 4K Iniziamo 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 Adizio Grazie a tutti E' un po' troppo di vento Grazie a tutti 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 Dovevamo andare a fare questo video Treno Treno Via Via Grazie a tutti Grazie a tutti Don't Questo qua è un po' Però Questa E' un po' E' un po' Portiamo un po' E' 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 un po' Ok Ah E' un po' E' un po' Ok E' un po' Ok Andiamo qui dentro Da qui in poi Mi sa Cos'è E' un po' E' un po' a piedi a passo d'uomo perchè non si poteva neanche stare questi giardinetti comunque sono carini sono tutti ristrutturati e va dai eccola qua tutta la stazione ristrutturata eccola qua era il frecce argentino non era il frecce rossa chi lo ha detto tra l'altro è il nuovo treno rock con due piano eccoci qua ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se si lasciate un like e quindi per questo nuovo vlog sarà il primo di quest'anno spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo video ciao 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 ciao